Amici sportivi ben ritrovati da Federico Dragone dalla pagina ufficiale giornalista sportivo e tutto il calcio siciliano ben ritrovati oggi vi parliamo con le ultime novità in Casa Marsala stiamo parlando di Serie D come sapete vi aggiorniamo sempre sulle ultime novità che ci sono in Casa Marsala ieri come sapete c'è stato l'esonero di Giannusa nel comunicato ufficiale della società dove comunica di avere sollevato il tecnico Giannusa che due anni da un anno e mezzo aveva fatto bene con la società Lili Bedana poi è successo praticamente vi raccontiamo tanto vi leggiamo il comunicato della SSD Marsala Calcio ASL comunica di avere sollevato il proprio incarico l'allenatore Giannusa la società intende ringraziare Giannusa per il lavoro sborto augurando l'uomo in primis al professionista poi in pocca al lupo per il suo futuro c'è da dire che il rottura tra la società in particolare in società tra la rottura tra il tecnico palimitano Giannusa e la società è successo tutto dopo la partita Marsala Marina di Ragusa dove Giannusa ha fatto delle dichiarazioni pesante nei confronti della società in particolare nella persona del presidente Cottone per quanto riguarda i stipendi e dei pagamenti ovviamente dopo questa rottura bisognava dare una smossa allo spogliatoio con molta serenità ieri arrivata dopo l'incontro tra la società e il tecnico è stato questo esonero da parte della società poi vi aggiorniamo anche sull'addio di Vincenzo Manfè che ha scritto nelle scorse ore nel profilo di Facebook ringraziando la città di Marsala che lo hanno sentito fatto sentire a casa in questi tre anni scrive Manfè, scrive da oggi non sono più un giocatore del Marsala Calcio ne approfitto per ringraziare tutte le persone che in questi tre anni mi hanno accorto in questa bellissima città ringrazio tutti i presidenti, dirigenti, direttori, allenatori, staff, magazzineri i compagni, i meravigliosi tifosi ma proprio tutti senza nessuno trascucciare la gente di Marsala mi ha fatto sentire bene dice Manfè a me, mia moglie, mio figlio in questi anni qui a Marsala ci siamo sorti parecchie soddisfazioni dal campionato di Acenea di oggi lasciando lo stadio ho guardato fino all'ultimo il campo e mi sono tornate in mente tutte le battaglie soffette e vinte e ricordi che resteranno sempre nel mio cuore uno dei tanti che mi vengono in biviti solo a pensaggi il boato di tutto lo stadio subito dopo il mio gol ai payoff quella è stata un'emozione che non potrò mai dimenticare in quel istante ho sentito tutto l'affetto che mi avete dimostrato in questi anni dunque queste sono le parole su Facebook di Manfè un solo grido di gioia si sa che il calcio è anche questo le strade si possono dividere ma questo non scancella quello che voi tutti siete per me un abbraccio il vostro camporone dunque questo era il post fatto da Manfè sui social nelle scorse ore per quanto riguarda invece il nuovo tecnico sappiamo che nelle scorse ore c'è stato un contatto con Massimiliano Mazzara il test tecnico di Mazzara Paceco e Marsala 1912 ma nelle ultime ore a parte Massimiliano Mazzara c'è anche il nome di Nicola Terranova sembra che sia lui il favorito per guidare l'Irbetani in questa seconda parte diciamo di campionato dunque attendiamo novità non ci sono novità fino adesso però come tecnico il favorito per la panchina è il tecnico Mazzarese Nicola Terranova poi ci possono anche essere delle sorprese in merito però attendiamo comunicazione probabilmente potrebbero già esserci oggi delle novità per quanto riguarda il nuovo tecnico per quanto riguarda il calcio mercato dopo il post di Manfè Vincenzo Manfè ha trovato già l'accordo con il Licata a parte qualche sorpresa negli ultimi giorni il giocatore è che se Marsala o mai potrebbe ritrovarsi la squadra del Marsala come avversario già domenica prossima questa era l'ultima notizia vi abbiamo voluto fare il punto sulla situazione del Marsala calcio per altri aggiornamenti notizie di allenatore calcio mercato in entrata e in uscita vi aggiorneremo sempre sulla nostra pagina facebook e sul canale di youtube che vi invito a scrivervi perché gli aggiornamenti non mancheranno grazie a tutti